Ho creato un mio team E si ragazzi per chi si ricorda ho riaperto i G1 In questo momento come ben sapete quasi tutte le org stanno abbandonando Fortnite Quando invece per me in questo momento storico Fortnite non è stato mai così tanto potente Né dal lato competitivo né dal lato content L'obiettivo dei G1 è quello di prendere sia content che pro player Il nostro obiettivo è di prendere gente già affermata ma di scoprire anche nuovi talenti Questo lo faremo anche grazie al Regrets Got Talent che si svolgerà ogni giovedì e ogni domenica Domenica prossima ci sarà il primo annuncio di un player Quindi mi raccomando restate sintonizzati e supportate il progetto E' il team di ciccia Io li buscerei Si busciano Si busciano E vabbè ma non è vero mai Buscia 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 Busce buscia Bush Buscia 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 Susi Così gentile Faccio medica Ma cosa è stato da solo era qua. Ah ecco arriva l'altra sotto poi è salito Merda ma ti è rato Hai mini? Mini è big green. Chi è? Ah è il botto è il botto è il botto Ah si sul tetto. Ma stai gli spendo dietro? Come vuoi? Così lo obblighiamo a Ah si dai gli spendo dietro Sono ancora là ma ho visto Dicendo che manco mi vede Ah sono morto Ok Ma sono ancora via Mi è successo ancora Ma che ti fa? Lo so 110 con la sabra Ah dove è andato Oh no e viene qua Qua a destra Stai su di me provi su di me provi Ti pusha Sopra qua sopra qua Ping mio Sceso ora qua Qua sopra No Ma con l'altra bomba L'avrei sbombato Se con l'altra bomba L'avresti sbombato prima Diciamo Infatti è rischiato solo per quello Ma ci sta non ti preoccupare È bellissimo Vabbè ho missato sinceramente Ho missato Ma sinceramente la missi Non hai sbagliato niente Non muori Vada è il terzo colpo di bomba Che spari in tutta la giornata Che vuoi Fammi stare Ma ragazza ma secondo voi Perché gioco con Zid Vieni qua Vabbè prendo il medikit Minchia due cose qua Due rampini E il gofi Qui c'è un altro Porta bunker Con Pure quello se lo vuoi usare Se ti vuoi preparare per dopo Sì mi preparo Mi preparo tutto Mi preparo tutto Vabbè vada a comprarmi la Vada a comprarmi il meditore Tu e so Qua Mi dai colpi piccoli hai Sì tieni Vado a prendermi un attimo il Il rampino Come si usa sto cosa bro? Tiacovaci e Spice Sempre mirando Anche quando ricarichi Sempre mirando Ok Mi ha usato prima volta Dietro mi hanno cecchinato Dai non ci credo mai Mi hanno fatto doppia cecchinata eh Ok Dove stanno sul tetto? Non lo so non lo so Ah penso che c'è Sì sì Arriva di brutto arriva Ah non stiamo sul tetto Sono morto sono morto No sono morto Madonna Bravo L'altro è qua Anzi quando ricarichi Mira Sì 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 Io vado via Hai tutto il tempo Ti giuro te li fai È forte lo scuso È dentro il bunker È dentro il bunker Lo scudo è fortissimo Beh 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 Però ma non mi posso retta con lo scudo Ma che cazzo significa? Sì te l'ho detto Solo la mano Solo la mano ti fanno 20 20 20 massimo Cioè non A volte non ci pensano Stanno un attimo 116 Dove sono? Davanti 16 Ci vado sopra 200 300 di ping ci sono Centro 10 Ho fatto uno L'altro è nell'albero lontano Ah altri due ok vogliono andare al pod di sicuro Stiamo andando al pod di lo rompiamo Andiamo andiamo Stiamo sopra Che fanno? Faitano Sì No Non faitano Siamo messi dentro Che fanno queste? Ma non lo so Sopra Sopra Eh c'è una posizione di merda bro Ma vanno via vanno C'è amaitate va via Andiamo andiamo avanti E va Ma non lo so Stanno andando proprio nella parte lontana 110 Stanno andando dietro Ho un hp Provo? Non ho cura non ho cura Ho un mig Tiene qua Arrivano? No se ne vanno se ne vanno Si 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 Ma chi è stato sto a cecchinarmi da dietro? Ah nell'albero Si capisci fai da una tra l'altro Quello lì è bianco Quello che va tutto a destra Vabbè dai Faccio quello di pad C'è vado vicino non ti preoccupare poi C'è un altro team qua Niente ha visto me? Minchia che cazzo Va vicino Vai vai Tutto sull'altro eh No Tutto tutto Arrivo sopra di te quanta non scendono Vai uno 60 80 40 40 40 Ma ti dice Non devi mettere il cecchino da vicino E invece lo faccio Non lo scopo pure Oh ci guardano Oh che cazzo mi guardano? Oh ma come si permette di permettersi? Io vado eh Io vado eh Io non ho paura Io non ho paura Vado con il cecchino in mano vai conto Anch'io Oh c'è c'è 98 Aiutami Un 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 Ma la gente è venuta a scappare Proprio subito Guarda me Mi ha avuto 7 crack Morta Pensi che ho paura di due di loro Bro Ho la aim solida Dillo che non hai paura solo perché lo scudo Certo, certo Nord-est Quindi questa cosa può essere anche ricicchiosa Madonna 121 Zero blu Dai almeno io il 121 gliel'ho fatto Ma sei zitto Oh vicino a me 120 Qui dietro Ma gliel'ho rompendo 75 100 116 Vada è rotto 116 si l'ho rotto Oh è 1 HP quello Si si c'è dentro 116 150 Rotto 1 Morto 1 Quanto vuoi? Morto Quanto eri rimando a destra con gli scuri in mano? Prima vista 116 Quanto è 3? Era 1 25 Sì era 1 Quanto è lì dietro Sì Dammi dammi Guarda sopra l'albero 1 Fuori Dove? Guarda sopra con l'albero Non lo vedo Morto Morto è morto Lo gioca S Bravo Qua fightano 120 crack Morto 1 qua L'altro è crackato Allo scudo Nel mio occhio No facciamo scudo Scudo contro scudo Due erano qua Ah in quel bunker mica Ho rubato tu? 100 No no Bravo E l'altro è sotto il punto Mamma mi chiede di ciò che hai fatto Meno male col pompa Ma stai cagato Guarda file Vai Ciao